Ci sono tante forme di violenza sulle donne. La violenza psicologica è una forma subdola di maltrattamento, in quanto invisibile e silenziosa, che colpisce moltissime donne, spesso inconsapevoli di esserne vittime. Al pari di quella fisica, la violenza psicologica ha conseguenze devastanti per le donne, ma purtroppo, spesso, viene sottovalutata. Ecco perché è fondamentale riconoscerla e trovare la forza e il modo di uscirne. È una triste realtà. I dati degli ultimi anni sul fenomeno del femminicidio parlano chiaro. Le donne sono troppo spesso vittime di violenze ferate, nella maggior parte dei casi, perpetrate da chi dice di amarle. Sono infatti più della metà i femminicidi commessi da parte di uomini violenti e incapaci di amare, legati alla vittima da una relazione sentimentale, siano essi mariti o conviventi, fidanzati o ex fidanzati. L'amministrazione comunale della città di Castel di Sangro ha voluto dedicare un'intera giornata a quella che è la ricorrenza sulla violenza di genere, una giornata a livello internazionale. Nel pomeriggio, presso la sala consigliare della comunità montana, c'è stata la presentazione del libro Il lato scuro degli uomini, della dottoressa Stefania Pizzonia. In serata abbiamo il concerto alle ore 21 presso il Teatro Tosti, un concerto che abbiamo voluto dedicare alle cinque donne della regione Abruzzo morte per femminicidio. Come si combatte la violenza sulle donne? Combattere la violenza è una necessità, visto che questo fenomeno sta diventando un fenomeno sociale di grande rilevanza. Si può contrastare la violenza soltanto attraverso la prevenzione, è una parola che conosciamo poco anche per altre situazioni. Prevenire significa sensibilizzare i cittadini e formare anche gli operatori sanitari che sono i primi molto spesso a venire a contatto proprio con episodi di violenza. Possiamo farcela tutti insieme, le istituzioni sono presenti. A Castel di Sangue abbiamo lo sportello e la libellula proprio per raccogliere come primo approccio le donne vittime appunto di questi episodi. Per noi il lavoro non consiste soltanto nella presa in carico delle donne e dei minori vittime di violenza nel momento in cui c'è il problema, ma è molto importante avviare quelle azioni di prevenzione che in qualche modo ci permettono di fare un lavoro con le nuove generazioni. Un lavoro che vada a porre l'attenzione sull'uguaglianza di genere e sull'educazione alla diversità. Il Lato Oscuro degli Uomini nasce come un progetto inizialmente finanziato e sponsorizzato dal Dipartimento delle Pari Opportunità e nasce in risposta a una nostra esigenza che avevamo percepito lavorando sul territorio con molti centri antiviolenza. Le operatrici proprio ci riportavano dell'altissima incidenza di casi di più donne che tornavano al centro ed erano state oggetto di maltrattamenti da parte dello stesso uomo. Quindi c'era una tendenza a reiterare l'atteggiamento, il comportamento violento da parte degli uomini. Quindi questo ci aveva addestato a una certa curiosità anche e soprattutto perché ci consentiva in qualche modo di ampliare lo sguardo sul tema della violenza che già in qualche modo percepivamo come un po' ristretto limitato soltanto allo sguardo su chi la violenza in prima persona la soffre. Ci sembrava necessario per ricomporre il quadro complessivo sul territorio della violenza anche ricomprendere anche il problema degli uomini. Un concerto dedicato al mondo femminile. Sì, una bellissima occasione un grandissimo concerto in questa giornata speciale. Sono lieto io, Francesco Mammola con il mio trio, con Giulia Mangone e Mariano Antonilli di dedicare questo concerto all'amore all'amore e alla figura femminile. Questa sera in occasione anche dei dieci anni miei di attività dieci anni fa feci il primo concerto proprio in questo teatro è bellissimo dedicare questa serata questo appuntamento alla figura femminile, alla donna ma soprattutto all'amore all'amore verso la figura femminile che omaggeremo proprio con questo repertorio un viaggio nel mondo mandolinistico dal 700 al 2000 tutto improntato sulla figura dell'amore. all'amore Grazie a tutti.